Preghiera per chiedere l'intercessione Signore Gesù, tu che ci hai dato la grande gioia di venerare Papa Giovanni Paolo I come tuo vicario sulla terra, e quindi nei tuoi inscrutabili disegni ci hai fatto provare l'immenso dolore della sua inattesa scomparsa, Concedici le grazie che ti domandiamo, affinché sicuri della sua intercessione presso di te, possiamo un giorno venerarlo sugli altari, allora la sua bontà e umiltà, proposte ad esempio dei fedeli, saranno un perenne invito a tradurre nella vita il suo insegnamento e a diffondere serenità ed amore. Amen. Beato Giovanni Paolo I prega per noi e per il mondo intero. Ti legò a una seggiorà, ti tolse la chioma e la maestà, e ti strappò di bocca un'alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 all